Ancora una bella notizia che arriva dagli Stati Uniti e che premia la diversità naturalistica della costa d'Amalfi. I studiosi della rivista American Zoologist, nel loro ultimo rapporto pubblicato lo scorso primo giugno, hanno incluso nelle specie protette l'oca di minori, insieme alla tartaruga liuto, l'orango di Sumatra e il pidocchio del Madagascar. Nelle motivazioni si legge che l'oca di minori entra a far parte delle specie protette per le sue caratteristiche di socialità, rumorosità e appariscenza. Particolare menzione anche al regime alimentare dell'oca di minori, incline, nel rispetto della tradizione locale, ai carboidrati e al dolce, cibi che rintraccia agevolmente in loco. Il palmipene minorese che vive alla foce del fiume Regina Minor, apprezzandone le acque cristalline ed il climamite, diviene quindi oggetto di attenta tutela. Secondo il famoso zoologo Marcus Lear, ne sono rimaste in cattività solamente tra gli 8 e i 12 esemplari. Da oggi chi maltratta l'oca di minori rischia fino ai 5 anni di detenzione. La cattura, o peggio ancora la soppressione, sarà punibile con una pena tra gli 8 e i 10 anni di carcere.